Ciao a tutti, io sono VistoAvvistato e siamo qua in questo video per vedere i video di TikTok divertenti o anche non divertenti, paurosi, non so, quelli che trovo su Huggy Wuggy, Poppy Playtime, il gioco, no? Se c'è anche Kissy Missy, meglio così, però non lo so, io sto cercando Huggy Wuggy su TikTok, quindi vediamo. Pongo, bellissimo comunque, tra l'altro già all'inizio... Bellissimo! Bellissimo! Questo video è super bello, vero? Mettete like se la pensate come me, scherzo, mettete un dislike se non la pensate come me, sono confuso. Così confuso che mi colpisco da solo, mi colpisco da solo, mi colpisco da solo! Ma cos'è? Ma cos'è? Ma non ha senso? Bellissimo, bellissimo, questo video è stupendo. Mi piacciono gli YouTube Poop MV, almeno si chiamavano così anni fa, ora non so se si chiamano ancora così. Confermate o non confermate? Questo fa paura più che altro. Vabbè, questo faceva un po' paura. Uh, Huggy Wuggy e SpongeBob fanno insieme, lo mischiano. Vediamo. Ma è bellissimo! Riguardiamolo. Cioè, lo unisce, però non sembra neanche unito, sembra rifatto proprio. Bellissimo! Ok, ecco il Lego. E già, semplice, ma vai funzionale, eh? Oh! Bellino, eh? Bellino! Vai che, nel senso, è semplice, però, però, la semplicità è difficile da farsi. Ricordate. Ok, Huggy Wuggy deve, credo, sapere dove è la pallina, vediamo. Deve capire dov'è. Vediamo. Ok, viene messa lì. Cerchiamo di stare attenti. Ok, uh, 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 è al centro, secondo me. No, è sbagliato, Huggy. Eh, fatti. È al centro, indovinato. Ma come? L'ha colpito. Due, vediamo. Ok, ok, uh, uh, ok. Ce li ho, 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 ce li ho. Oh, mamma mia, per me quella è in mezzo. Eh no, anche io pensavo quella è in mezzo. C'è qualcosa che non va. Mi sa che ho sbagliato. Due schiacchi, ma poverino. Con tre palline qua, per forza, qua per forza. Dai. È in tutti. Invece, secondo me, non c'è. E infatti, non c'è. Ma come? Ah, ecco dove erano. Uh, adesso fanno Huggy Wuggy con della stoff. Cioè, del... Oh, 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 oh. Ma cosa chi fa con il punteruolo? Per Natale! E siamo lontanissimi a Natale. Però, se volete farlo già adesso per Natale, siete pronti. Fatelo, eh, provate. Se lo fate, mandatemi un video. Dove dite, guardatelo, l'ho fatto anch'io. No, scherzo, non fatelo. Natale è lontanissimo. Uh, sta iniziando a prendere forma già Huggy Wuggy, eh? Così. Ma così de botto proprio. Subito proprio. Ma è fatto bene, alla fine, cioè... Non è proprio un trucco, però. Huggy Wuggy e Sonic. Wake up! Spiegatemi che cos'è questa roba, perché non ho ancora capito. Uh, qua fa chi si inizia, eccola, è arrivata! Sì, ma la fa benissimo. Ma guardate anche quelli dietro, ha fatto i Pokémon. Ma li ha fatti benissimo! Ma riguardiamoli un attimo. Quelli indietro, però, voglio vedere. C'è Gengar, Tangela... Ma poi qua c'è Sidot, Voltorb, Torchic, credo. Poi lì sotto c'è il logo di TikTok. Ma sono bellissimi! E' un po' per favissima la persona che li ha fatti. Palloncini? Vediamo cosa fa con i palloncini. Aspettate. Oh my god! Ma è spaventosamente bello! Complimenti! Complimenti! Persona col cappello. Aghiwaki che balla! E' random proprio! Ma cosa metterlo? Non so, è stranissimo! Ok, c'è un po' pazzo di Aghiwaki. Adesso... Mi sono preso un colpo! Questa non è divertente, è veramente pauroso come ho detto all'inizio. Vediamo, un'altra creazione! Ok? Fa il pupazzetto, lo... Lo crea con un foglio. Cosa che può fare chiunque! Cioè, non è troppo difficile. Quindi, ottimo che può farlo chiunque. Girando! Questa è veramente una cosa geniale, geniale. Non si può dire nient'altro. Geniale! Geniale! Ok? Si spengono tutte le luci? No! Aghiwagi da solo! Ah! Però la compagnia così! Spaventata da cosa? Non ho visto, stavo guardando in camera. Vabbè, si nasconde... Ah, da quella bambina cattiva, forse. Si spaventa Aghiwagi! No! Corri, 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 corri! C'è il Nemesis! No, ha preso una... Una graffiata. No, bisogna difendere Aghiwagi. Complimenti. Uh, il metodo per sconfiggere Aghiwagi. No! Non ce l'ha fatta. E cadono tutti e due. Però alla fine... Uh, è riuscito a salvare Aghiwagi! Forse! Forse! No! Non pensavo finisse così. Pensavo finisse bene. Ma è un po' intristito questa cosa. Così random, aspettate un attimo. Ho trovato questo video con Lion, poi c'è Favij e Gabby16bit. Un saluto a Lion, Favij e Gabby16bit. Ok. Scrivete nei commenti che preferite fra i tre. Lion, Favij o Gabby16bit. A me stanno si parli tutti e tre, sinceramente. Cioè, che mi deve stare in spedio con qualcuno. Un clay motion! Cioè uno stop motion col... col pongo. Con la plastelina. Hai fatto benissimo, eh! Chi tiene il popizzato di Among Us? Il personaggio di Among Us. Complimenti! Ti avrei messo almeno un anno per fare un video del genere, però... Complimenti. Kaki, wagi! Cosa che fa? Mangia agi, wagi! Sì, ma di chi cosa hai fatto? Sembra di polistirolo, ma... Il rumore mi fa impressione. Mango! Ma perché mangio anche il mango? Ma poi non è il mango, è un kaki. Vabbè. Egu! Uovo! Uovo? Ok. E poi dovrebbe mangiare... Il bubble tea? Bere. Mangiare le bolle. Ho fatto un po' impressione, eh, questa cosa. Ho fatto più impressione di questo che agi-wagi. Mi sono preso un colpo. Oh! Ma un po' pazzo ha fatto benissimo! E si gira... Sapevo! Cioè... È inquietantissimo! Ma non può esistere una cosa così inquietante! Per oggi abbiamo finito! Se ti piacciono i video di questo tipo, lascia un commento, iscriviti al canale e condividi il video e metti un mi piace, mi raccomando, e commenta con su scritto Agi-wagi! Ok? Un saluto a tutti da... Avvisto!